No, non so che... perché questa talone ha fatto più banna? non lo rimette vedete un po' questa grande manchettina Grazie a tutti. 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 Eccolo, eccolo, eccolo. e... 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 ... e... 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 ... e... ... e... ... e... e... ... coco... vai... vai... ... e... e... ... e... 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 Grazie a tutti. 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 Andiamo. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.